Il same podcast del giorno dopo per parlare del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula 1, ancora una volta come succede in Superbike quando vince Bautista, anche qui non cambiano i vincitori, non cambia il copione, la Red Bull domina in lungo e in largo e in questo caso ha dominato in lungo e in largo Max Verstappen, nonostante una partenza ad handicap per via di bandiere rosse in qualificazione e anche di un errore dell'olandese, uno dei rari per il momento di questo Mondiale. Per un Gran Premio di Miami che ha la sua seconda edizione, che comunque ha regalato degli spunti interessanti su un circuito che francamente lo sto rivalutando, anche in positivo per via di qualche sorpasso interessante, qualche tecnica in più, migliorata anche da parte dei piloti, insomma è un circuito che in Formula 1 secondo me ci può stare, potrebbero venire fuori i Gran Premi divertenti se non fosse che ci fosse sempre una macchina dominante. Parlavamo però di una partenza handicap da parte di Verstappen e la partenza handicap è dovuta al fatto che Leclerc in qualificazione nel Q3 di fatto la pianta a muro nello stesso punto dove l'aveva piantata nelle libere e appunto per questo motivo arriva una bandiera rossa un minuto e 36 secondi dalla fine. Verstappen che era di fatto nell'outlap per arrivare a fare il giro buono che non aveva fatto nel primo tentativo deve partire in nona posizione e questo poteva essere comunque uno svantaggio per il periodo orlandese perché primo in qualificazione era il suo compagno di squadra. Sergio Perez era uscito dalla vittoria incredibile a Baku e peraltro molto meritata e di conseguenza c'è una grandissima possibilità per evidentemente Perez di arrivare al leader del mondiale e invece ovviamente sappiamo che non sarà così. Se da una parte la Red Bull domina in lungo e largo la Ferrari invece deve leccarsi le ferite e rimpiangere questa gara di Miami sia per quanto riguarda Leclerc sia per quanto riguarda Carlos Sainz perché Leclerc appunto partiva a Endic per questo errore ma in gara non è che farà granché. Sainz invece era in lotta per quanto riguarda il podio ma verrà penalizzato di 5 secondi per aver ecceduto i limiti di velocità in pit lane e questo è un fotogramma del suo ingresso un po' garibaldino nella Corsia Box di Miami di fatto arriva un bloccaggio eterno nel tentativo di fare undercut nei confronti di Fernando Alonso che non riusciva a passare in pista per questo motivo viene ecceduto appunto il limite di velocità di 60 km orari e quindi 5 secondi di penalizzazione per Carlos Sainz che peraltro subirà anche il sorpasso di George Russell veramente una Ferrari in colore in quel di Miami nella giornata di ieri e quindi un po' è tornato il range di valori che abbiamo visto nella scorsa parte di stagione quindi le prime 4 gare ovvero una Red Bull dominante e evidentemente un Fernando Alonso in stato di grazia ma ovviamente dello spagnolo ne riparleremo. Che dire invece per quanto riguarda la Red Bull ancora una volta è la macchina dominante non c'è per fortuna un solo pilota come succede in Superbike ce ne sono però due che hanno evidentemente lottato in realtà nella gara di Miami hanno lottato un po' per finta perché Perez viene obliterato male da Max Verstappen che ha fatto letteralmente il bello e il cattivo tempo per dare un'idea a Verstappen nei primi giri di gara era già in terza posizione nonostante partisse nono con gomme dure con gli altri che partivano con gomme medie e la superiorità della Red Bull è talmente imbarazzante in questo frangente che tutti i piloti Ferrari compresa non si sono praticamente difesi negli attacchi di Max Verstappen in rimonta. L'unico che ha provato a dare un po' di difesa è stato Perez questo è il frame del winning overtake evidentemente nella giro numero 49 dei 57 previsti ma anche Perez non ci poteva fare granché. Verstappen probabilmente partiva ultimo avrebbe vinto lo stesso al netto della mia consecutiva temporum andata a quel paese ma per dare l'idea che questo Verstappen è veramente centrato per il terreno del mondo consecutivo e qui ha dato una dimostrazione di forza impressionante per una Red Bull che ripeto già è dominante di suo e fa un campionato a parte in alcuni sorpassi sembra vedere veramente le LMP1 contro le GT della 24 ore di Le Mans e invece appunto ancora una volta anche gli altri piloti sono veramente inerti e inermi nel vedere un dominio totale di questa Red Bull che alla fine vince ancora e ancora una volta il vincitore è Max Verstappen terza vittoria in stagione e ancora una volta per lui suona Held Wilhelmus Perez compresa l'ennesima doppietta 1-2 della scuderia anglo-austriaca e terzo invece è il solito Fernando Alonso che è letteralmente il terzo pilota per valore assoluto di questo campionato del mondo perché davanti abbiamo Verstappen talento purissimo e codiuvato da una macchina dominante secondo abbiamo Perez che comunque è un ottimo pilota codiuvato da una macchina dominante il secondo pilota in pista per talento in questo momento è comunque Fernando Alonso alla venerante età di 42 anni con una Aston Martin sulla carta inferiore in questa pista anche a Mercedes e a Ferrari basta vedere le prestazioni di Lance Stroll ma non è di certo un pilota paragonabile a questo Fernando Alonso evidentemente il 42enne Asturiano ci mette sempre qualcosa del suo e fa veramente ancora una volta una prestazione di un certo livello perché Alonso con questo quarto podio in cinque gare arriva ancora una volta terzo da solo in classifica del mondiale ed è qualcosa di clamoroso appunto perché non è più un ragazzino ma come ho sempre detto il talento non si perde il mondiale nonostante siamo già alla quinta gara in modo di vedere è già bello che è indirizzato sarà un duello ovviamente tra Perez e Max Verstappen il netto favorito però è sempre Verstappen che seguendo la cabala le gare dispari le vince le gare pari finisce secondo quindi probabilmente Imola vincere a Perez con Verstappen secondo ma comunque a Miami abbiamo visto probabilmente la dimostrazione di questa Red Bull dominante una prova di forza assolutamente imbarazzante per gli avversari sembra veramente che le due scuderie austriache meglio le due vetture austriache facciano letteralmente un'altra categoria Verstappen a lunga in classifica anche con il giro veloce a 119 punti 105 per Sergio Perez che appunto si macchia probabilmente di un ruolino imperfetto per questa quinta posizione a Melbourne ma per il resto è un ruolo di pilota da primissimo della classe terzo è Fernando Alonso che ha fatto tre o meglio quattro piazzamenti sul podio in quattro gare e quando non c'è arrivato è arrivato quarto chissà che in circostanze fortuite e fortunose lo spagnolo di anni 42 non possa magari centrare una vittoria per arrivare al numero 33 di carriera e sarebbe veramente un highlight importante in questa stagione ma il campionato sappiamo che è veramente lungo abbiamo fatto 65 gare ce ne sono in totale 23 gli altri piazzamenti per quanto riguarda la gara di Miami abbiamo quarto George Russell che di fatto è il primo degli altri se vogliamo considerare Alonso come pilota di un'altra categoria ma perché di fatto è così perché tolto il podio di Leclerc il podio è sempre stato Red Bull e Fernando Alonso Russell ha fatto una buonissima gara con questa Mercedes che non è più la macchia dominante di un tempo e secondo me merita comunque gli onori della cronaca perché ancora una volta Russell tiene davanti Louis Hamilton che va detto come Leclerc ha fatto una gara oltremodo in colore al mio modo di vedere e di conseguenza onore al merito al pilota inglese quinto è Carlos Sainz che secondo me è la delusione del giorno per questa gara di Miami perché è un quinto posto molto più amaro che dolce lo spagnolo era assolutamente in corsa per il podio e poteva secondo me competere se non avesse avuto quella penalizzazione per quanto riguarda l'entrata in pitlane troppo veloce certo andava poi a farsi una lotta con Alonso in pista e comunque sappiamo come Ferrari e Aston Martin in questo momento più o meno stiano lì e si equivalgano Sainz però butta anche una volta nel rudo una possibilità di ben figurare con un Leclerc che invece ha fatto veramente la gara del gambero e una gara a sua volta in colore sesto Louis Hamilton che inverte la strategia fa un po' come Verstappen e rimonta dalla tredicesima posizione e arriva alla sesta è comunque una gara solita per il pluricampione del mondo inglese settimo invece è Charles Leclerc che invece di fatto arriva dove è partito ma Leclerc ha fatto veramente una gara in colore ha fatto fatica a superare macchine sulla carta inferiore vedi per esempio la lotta con la Haas di K-Mag se non mi ricordo male fatto sta che comunque è un weekend per la Ferrari in toto da dimenticare quello di Miami ottava posizione invece per Pierre Gasly che si risolleva dopo due gare di oblio assoluto Gasly partiva in quarta posizione non potevamo aspettarsi da questa Alpine una gara di vertice è comunque una buona prestazione secondo me per il pilota francese che torna a putti dopo la gara di Jedda ottava posizione per il pilota francese non una posizione per l'altra Alpine quindi di fatto è una posizione interessante per quella che senza se e senza ma è la quinta forza in pista per quanto riguarda le scuderie chiude la zona punti K-Mag che ha fatto una gara molto bella si è preso il lusso anche di lottare con la Ferrari di Charles Leclerc standogli anche davanti per alcuni tratti K-Mag fa la seconda gara punti della stagione insieme appunto a quella di Jedda e alla fine sono punti importanti per una scuderia non al top come la Haas per un mondiale di Formula 1 che invece evidentemente deve ancora entrare nel vivo è già indirizzato evidentemente per la vittoria tra le due Red Bull bisogna vedere se questa Red Bull l'interrogativo è se le possano vincere tutte il potenziale probabilmente c'è perché probabilmente ha fatto 5 su 5 tra i Converstappen e due su Perez il dominio in questo momento è imbarazzante e nessuna delle vetture sembra avere un qualcosa in più per contrastarla abbiamo visto Fernando Alonso che arriva a 6 terzo ma anche oggi Alonso è preso 20 secondi di distacco ieri meglio da quantomeno Perez di conseguenza sono 25 da Verstappen segno che in questo momento in Red Bull si sta vivendo la stessa era che abbiamo visto in Mercedes prima con la coppia Hamilton-Rosberg e poi con la coppia Hamilton-Bottas per quanto riguarda invece gli altri piazzamenti non ci sono grandissime sorprese faccio giustamente una menzione di disonore in questo momento perché abbiamo parlato di Carlos Sainz come delusione del giorno un'altra delusione del giorno secondo me è Nick De Vries, il pilota olandese che a me piace tantissimo perché è uno di quelli che io ho sempre voluto vedere in Formula 1 sappiamo che De Vries è un pilota che ha vinto Formula 2 nel 2019 e Formula 1 nella stagione 2021 e non ha vinto il mondiale 2022 per circostanze sfortunate è un pilota che ha già fatto vedere talento con la Williams l'anno scorso a Monza e vedere queste azioni in colori indecenti mi verrebbe da dire di Dick De Vries nei confronti soprattutto di Tsunoda che non è un pilota del suo livello fa veramente riflettere come questo avvio di campionato di De Vries è stato veramente tantissimo difficoltoso questo dunque è il Racing Podcast per quanto riguarda la gara di ieri del Miami International Circuit il seguito cittadino è costruito all'intorno del Hard Rock Stadium di appunto Miami ci vediamo per quanto riguarda i prossimi Racing Podcast in questa settimana per quanto riguarda la MotoGP Gran Premio di Le Mans la Formula 1 invece tornerà a Imola weekend del 20 e 21 di maggio per la prima gara europea delle nuove previste in programma prima di arrivare evidentemente nella trasferta ex europea da Singapore in avanti fatemi sapere cosa ne pensate di questa analisi delle vostre scuderie preferite e dei vostri piazzamenti ed eventuali premi di driver ed elusione del giorno il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video